Il sostegno al settore industriale siciliano continua a essere la stella polare dell'azione politica del Governo regionale guidato da Renato Schifani e l'assessore alle attività produttive Edita Maio a confermare la vicinanza dell'esecutivo regionale a tutto il comparto produttivo siciliano. L'Aggiunta regionale infatti ha approvato il provvedimento che destinerà complessivamente 365,7 milioni di euro alle imprese dell'isola per contrastare l'aumento dei costi dell'energia. Aiuteremo le imprese siciliane, dice Tamaio, ad affrontare vertiginosi rincari dei costi dell'energia causati dalla crisi internazionale, aumenti che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende. Ci siamo attivati per erogare al più presto il bonus energia, grazie ai 250 milioni che il Governo Schifani ha affidato al Dipartimento delle Attività Produttive per aiutare gli imprenditori della nostra Sicilia a fronteggiare il caro bollette. Siamo al lavoro, conclude, sugli avvisi da rendere pubblici nei prossimi giorni e dare così il respiro alle realtà aziendali nei vari comparti produttivi e alle tante famiglie che vi ruotano attorno. I fondi destinati all'assessorato di Via degli Emiri costituiscono la parte più cospicua dello stanziamento totale approvato dal Governo regionale. Il Dipartimento diretto da Carmelo Frittitta ha già definito i criteri per la concessione degli aiuti. Il contributo avrà erogato in percentuale al 30% sull'aumento rispetto alla tariffa del 2021 del costo di gas e luce registrato tra il 1 febbraio 2022 e la data dell'ultima fattura di fornitura disponibile. L'importo massimo del beneficio concedibile a ogni singola azienda è di 20.000 euro.